Ciao ragazzi un saluto da Fabian367. Oggi andremo a vedere l'andamento del mio canale youtube. Ecco come potete vedere ho 106 iscritti di cui abbiamo avuto un incremento di 45 nuovi iscritti nell'ultimo periodo, niente male. Ora vi farò vedere i video più gettonati diciamo, non ho tantissimi video però è da poco che ho iniziato a caricare i video di frequenza perché prima caricavo ogni tanto i video, adesso ultimamente sto caricando un po' più video. Allora il video più gettonato come vedete adesso ve lo metto in ordine per più visti. Abbiamo l'adrenaline 2018 2019 che l'ho caricato un po' di anni fa però mi soffermo sull'album calciatori. Album calciatori panini 2021 completato. Ragazzi se non l'avete visto andate a vederlo perché 2924 entrosera arriveremo a 3000 sicuramente questo in giro di mi sembra un mese circa quindi ha avuto un successone. Dopodiché abbiamo la collezione dei pokemon, delle carte più più importanti, le più pregiate diciamo, queste collezionate con Mi08 che è mio figlio. Se non siete iscritti al canale vi lascio in descrizione qui sotto il canale, iscrivetevi. Poi abbiamo la soundbar che è un unboxing che ho fatto io della soundbar che ho acquistato un paio di mesi fa della Samsung, molto 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 bella. Da poi di che vabbè io prevalentemente faccio dei video sempre su album oppure domotica come vedete supporto da muro Amazon. Abbiamo l'album panini dell'anno scorso, tutto domotico comunque ecco flex, prese wifi, abbiamo come registrare un video senza senza nessuna app gratuitamente, questo qua è molto interessante andate a vederlo, non è questo che sto usando io è un altro. Poi abbiamo un tutorial di come configurare le lampadine led suprema, se vi interessa andate a vederlo. E l'ultimo che abbiamo fatto è quello di ieri del set tastiera mouse gaming rk100 che l'abbiamo acquistato su Amazon è una tastiera e mouse che praticamente è illuminata multicolor per Mi08 ovviamente. Allora ragazzi la novità di questo periodo sono le live. Abbiamo iniziato a fare le live con Mi08. Allora prossimamente ci saranno ancora delle live, probabilmente farà delle live anche magari solo Mi08, io sarò lì in fianco di lui magari non mi vedrete, però utilizzerà lui diciamo il mio canale per fare le live. Poi il suo canale sarà sempre attivo dove lui come sempre carica i vari video di quando gioca a PES, a FIFA, spacchettamenti e altri giochi. Comunque se andate sul canale se non vi siete iscritti iscrivetevi, sarà ripetitivo, andate a vedere i video che lui ha fatto e diciamo che di solito giornalmente posta sempre un video a lui. Ok ragazzi con questo è tutto, grazie per la vostra attenzione e da Papi2377 è tutto, ciao ragazzi a risentirci.